Sono molto contento di ritrovare Walter nel mio staff, abbiamo avuto occasione di lavorare con la squadra nazionale. Sono contento e ringrazio il Presidente che ha condiviso con me la possibilità di portare Renzo alla Reier, così come sono contento e curioso di lavorare con Alberto e con Mauro, lo volevo come giocatore quando allenavo a Cantù, per cui anche se in veste diversa avrò la possibilità di lavorare con lui. Ma la cosa importante sarà veramente il ruolo che ognuno all'interno della Reier saprà occupare e sono sicuro che nessuno ci farà mancare l'aiuto e la collaborazione di cui abbiamo bisogno. So che voi siete curiosi perché volete sentire parlare soprattutto di programmi, di squadra. Mi sembra che il Presidente sia stato molto chiaro oggi, ma lo è stato soprattutto chiaro con me quando ci siamo visti a Udine. È chiaro che noi vogliamo perseguire i play-off, però il desiderio del Presidente è che si arrivi ai play-off non come traguardio, come obiettivo per essere contenti di essere arrivati ai play-off, ma si vuole essere in condizione di arrivare ai play-off per poi giocare alle nostre carte e vedere che cosa succede. Cioè veramente i play-off anche di quest'anno stanno dimostrando come ci sia spazio per tutto. Il Presidente ha parlato di Brindisi, ha parlato di Cantù e quindi quando ci sono delle delusioni, in contraposizione ci sono chiaramente delle sorprese. E quindi noi quello che vogliamo fare è arrivare ai play-off, arrivare alla Coppa Italia, poi dimostrare di essere competitivi con le squadre che magari sulla carta potranno essere più forti di noi, però dovranno dimostrare di vincere contro di noi non solamente sulla carta ma anche sul campo.